Grazie, prego, prego, consegnere, grazie. Beh, su questo argomento la dichiarazione è mia doppia, la dichiarazione di voi. State scrivendo una pagina di comportamento antidemocratico qua dentro, perché come ho detto prima, tantissime città, chi ha potuto si è organizzata e le riprese del lavoro del Consiglio Comunale vengono trasmesse. E vi dirò anche un'altra cosa, che la presenza di telecamere potrebbero sicuramente stemperare comportamenti come quelli che poc'anzi ci sono stati. E vorrò capire, se il vigile Cori Carlitto è rimasto ferito, come mi dicono, che voglio anche per amicizia personale, vorrò capire come se ne esce da questa storia che non so se è vero quello che mi si rappresenta, non è soltanto un problema di scuse. Mi dispiace che votate un regolamento così fortemente limitativo della trasmissione di ciò che avviene dentro quest'Aula. Penso e invito tutta l'opposizione, ma l'invito è rivolto anche alla stampa presente, a far conoscere che ci sono atteggiamenti così limitativi riguardo alla diffusione di ciò che avviene nel Palazzo Comunale. Sono veramente amareggiato perché un regolamento di questa portata non è un problema né di maggioranza né di minoranza, è un problema di Consiglio Comunale tutto, è un problema della città. Quindi tutti coloro che nella maggioranza hanno sostenuto questo regolamento se ne assumeranno le responsabilità. A memoria di questa città lasciano una brutta